Bene, eccoci per un nuovo appuntamento con la ricerca scientifica in collaborazione con i ricercatori dell'Istituto Regina Elena, ringraziamo per questo la professoressa Paola Muti, direttore scientifico dell'Istituto Regina Elena e abbiamo con noi Claudio Pulito, appunto un ricercatore di chemioprevenzione dell'Istituto Regina Elena. Ben trovato a questo nuovo appuntamento, come già abbiamo detto le altre volte, questo è un incontro che avviene dopo un anno, dopo un anno noi abbiamo avuto qui già precedentemente il dottor Giovanni Blandino, poi abbiamo avuto la dottoressa Sabrina Strano, poi Elisabetta Falvo ricercatrice, poi l'altra ricercatrice Santoro e ora abbiamo Claudio Pulito. Abbiamo affrontato vari argomenti e argomenti diversi, ma comunque che poi tutti andavano a coincidere su un unico fronte, il fronte è quello di sconfiggere appunto questo mostro, questo mostro chiamato Cancro, ogni anno in Italia si ammalano oltre 250 mila persone, ricordiamolo, ogni anno muoiono oltre 150 mila persone, ricordiamolo. Allora Claudio Pulito, dunque dopo un anno partiamo da zero, cioè nel senso non che voi partite da zero, io parto con la stessa domanda, una domanda fondamentale, una domanda importante, io chiedo ai telespettatori di ascoltare, anche se cercano a noi di non farci fare più le trasmissioni, ma non ci riescono. Allora, che cos'è la metformina? Come agisce? La metformina è un farmacorale appartenente alla famiglia delle biguanidi che viene utilizzata da diversi anni nel trattamento dei pazienti affetti da diabete di tipo 2. In particolar modo viene somministrata a questi pazienti perché la metformina altro che non fa in questi pazienti che sensibilizzare il tessuto all'azione dell'insulina. L'insulina è un importante ormone prodotto dal pancreas che nei soggetti affetti da diabete piuttosto che nei soggetti sani è scarsamente o inadeguatamente prodotta. Il risultato di ciò è che anche il tessuto riesce a assorbire il glucosio in maniera meno efficiente rispetto a un soggetto sano. Quindi quel poco insulina che viene prodotto dal tessuto viene ottimizzato nella sua azione attraverso appunto la metformina che ti sensibilizza il tessuto in modo tale che i livelli di glucosio nel sangue ritornino a livelli normali e non si abbia più il problema appunto del diabete che è un'iperglicemia.